Nella Capretti, presidente dell'associazione Noi per Loro, riceve oggi questo importante contributo, importante almeno per l'audace, ma credo anche per voi, per poter creare qualcosa di nuovo, venirvi incontro con le spese, insomma qualcosa che vi possa permettere di continuare meglio il cammino verso l'aiuto nei confronti dei ragazzi che hanno delle difficoltà. Che significato ha questo tipo di donazione? L'aiuto è importante non solo per l'audace, ma anche e soprattutto per noi. Noi per Loro ha scelto dal 1984 dei percorsi per stare vicino ai bambini che vivono momenti difficili della loro vita per problematiche di salute, di malattie gravi, tumori, malattie del sangue, ha scelto dei percorsi diversi. Andiamo dalla donazione di strumenti di diagnosi e cura all'ospedale, le borse di studio, il sostegno economico alle famiglie. Questa attività va riegata a 360 gradi, riusciamo a farla soltanto perché ci sono occasioni e persone come queste che ci sostengono. Noi cerchiamo di essere un mezzo per arrivare ai bambini ricoverati in ospedale, ma in realtà sono le persone che ci aiutano, che arrivano, che aiutano i bambini in difficoltà attraverso noi. Ecco, magari questa donazione vi può servire anche per pagare semplicemente un affitto o costruire qualcosa o comprare una macchina. C'è un obiettivo che avete già in mente per utilizzare questi soldi? Sì, noi abbiamo quelli che noi chiamiamo i progetti sempre aperti, nel senso che c'è qualcuno, qualche progetto che ha un inizio e una fine, ma qualcun altro che è sempre aperto, ad esempio il sostegno alle famiglie. Noi ogni mese facciamo una riunione con l'equipe dell'ospedale per vedere i sostegni proprio economici da dare alle famiglie. Diciamo che un mese e mezzo di sostegno alle famiglie questo contributo ce lo dà ed è un sostegno di un mese e mezzo che fa l'audace. Quindi grazie alla nostra gratitudine non finisce, ma soprattutto, anche come ci dicevamo prima, perché non è la prima volta e perché il camminare insieme è quello che effettivamente ottimizza i risultati. Sì, la filosofia del Presidente Mavilla è proprio quella di condividere e di creare sinergie finalizzate alla crescita dei ragazzi e della società in senso lato. Sì, i ragazzi devono sapere che questo loro gesto, che forse a loro sembra piccolo, in realtà è molto grande, aiuta altri coetanei loro che sono in difficoltà. Speriamo che nessuno abbia, il nostro obiettivo sarebbe che nessuno mai più si ammala, però la vediamo non immediatamente realizzabile questa cosa. Però finché ci sono queste problematiche, il sapere che la collettività che è vicina è veramente di grande aiuto, anche dal punto di vista psicologico, il sapere che non sei solo è assolutamente determinante. Tra l'altro questa donazione è stata intitolata a Marco Caramans, che è un ragazzo purtroppo del 2004 venuto a mancare per una grave malattia oncologica, del quale l'audace conserva un profondo ricordo, tra l'altro è stato proprio un giocatore di Luigi Mavilla, quindi a maggior ragione questo premio, anzi questa donazione è particolarmente sentita, anche per voi probabilmente perché avete seguito la vicenda. Assolutamente, questo tra l'altro ci dà la possibilità di ricordare questo, noi ci riteniamo un'associazione molto ricca, non tanto di soldi ma molto ricca di storie, perché qualsiasi persona che entra in contatto con noi, qualsiasi bambino anche che non ce la fa, ci ha lasciato la sua storia e noi ci riteniamo veramente custodi di questa storia, ne siamo orgogliosi e ci dà molta forza per andare avanti. Voi sono Nero, siete nati il 17 dicembre 1984 e dal vostro lavoro, dalla vostra attività, dalla vostra passione nella cura e nel contributo per le famiglie dei ragazzi purtroppo affetti da problemi oncologici è nato poi nel futuro, negli anni successivi, quello che sarà poi l'ospedale dei bambini nel Maggiore di Parma e se non erro parte di questo lavoro è stato anche finanziato da voi, è vero? Sì, allora l'esperienza dell'oncologia pediatrica è un'esperienza del tutto particolare, abbiamo come caratteristica la lunga frequentazione dell'ospedale, per cui sia i medici per le loro competenze, sia noi per quanto riguarda come associazioni, ci siamo fatti un'esperienza, una cultura. La qualità dell'ospedale è assolutamente un valore che noi portiamo avanti e sulla base di queste indicazioni poi è stato costruito, con questa filosofia è stato costruito anche l'ospedale dei bambini, in cui tutti i bambini si ritrovano con tutte le competenze a loro dedicate, quindi con dei pediatri in un unico edificio, poi per le altre esperienze, le altre specializzazioni sono gli specialisti che vanno nell'ospedale dei bambini, quindi è proprio una filosofia nuova, oggi è quasi assodata, ma nella nostra lunga storia abbiamo assistito anche a questo cambiamento e a questa maturazione della società. Ecco voi tra l'altro avete cambiato sete, siete in una sede splendida adesso, questo grazie anche alla donazione di persone che hanno creduto e credono nel vostro lavoro, quindi un'ulteriore crescita, qual è il vostro prossimo obiettivo? Il nostro prossimo obiettivo è in realtà un po' sempre lo stesso, nel senso che noi vogliamo esserci, vogliamo fare la differenza nella vita delle persone, poi la modalità in cui questa cosa viene attuata cambia con il tempo. Questa sede l'abbiamo realizzata grazie a un'eredità ricevuta da una signora che noi non conoscevamo, ma evidentemente lei conosceva noi e il nostro lavoro e abbiamo voluto portare in questa sede, non so se la sensazione è solo mia o se anche di altri, quando si entra si ha l'impressione di entrare in un mondo diverso. Il nostro architetto, che è poi il nostro segretario, ha avuto questa intuizione, per cui tutte le nostre attività hanno uno spazio dedicato, ma i collegamenti con l'ospedale, con la nostra storia sono del tutto presenti e ne fanno parte integrante. Chiudiamo parlando proprio delle vostre attività, in che cosa consistono concretamente? Allora, come ho anticipato prima, le nostre attività sono suddivise, noi dividiamo le nostre attività in progetti, perché sulla base di quello, sulla base delle necessità economiche, programmiamo le attività future. Avevamo una bellissima attività di socializzazione, che adesso abbiamo dovuto lasciare un po' in congelatore per via di questa pandemia che ha sconvolto la vita di tutti, però abbiamo cercato di utilizzare delle modalità diverse, utilizzando gli strumenti attuali. C'è però un'attività che si vede poco, ma abbiamo sempre sostenuto il reparto con tante piccole cose all'inizio, quando non si trovava il gel, le mascherine al di sopra delle necessità, delle forniture fatte dall'azienda pubblica, strumenti per avvicinare, per esempio, dei tablet, piuttosto che degli abbonamenti all'elipotensi, piuttosto che il potenziamento di internet. Poi abbiamo un'attività che è quella in assoluto, che sia più cara, che è di sostegno economico alle famiglie, che comprendono il progetto che noi chiamiamo di accoglienza, comprende anche la gestione nella casa di accoglienza che noi abbiamo in Borgotanzi, sono sei alloggi, nei quali ospitiamo le famiglie che vengono da lontano. Ed è una casa che va evidentemente gestita anche nelle piccole cose, dalle bollette alle manutenzioni, perché ormai è stata inaugurata nel 2004, quindi sono tanti anni e quindi come in qualsiasi caso sono necessari i lavori di manutenzione e la gestiamo, accogliamo le famiglie e per noi questo è il progetto di accoglienza. Nel nostro ultimo giornalino abbiamo pensato di focalizzare la nostra attenzione, è un'attività che abbiamo sempre fatto, ma diciamo che difficilmente l'abbiamo presentata in modo così coordinato. Quindi il nostro progetto ha come accoglienza, in realtà cambia forse la comunicazione, ma noi lo facciamo allo stesso modo. L'altro progetto che invece vogliamo cominciare adesso è cominciare a parlare di ricerca. La ricerca in campo medico richiede finanziamenti molto importanti che è al di fuori della nostra portata, però noi possiamo intanto capire e condividere con altri che cos'è la ricerca, perché non pensiamo soltanto alle grandissime scoperte, pensiamo anche alla ricerca clinica, il come fare stare meglio il bambino nel nostro caso oppure il paziente al letto nel quale si trova in ospedale. Quindi parlare di ricerca e parlare di approfondire e appoggiare anche piccoli progetti è uno dei nostri progetti su cui focalizzeremo la nostra attenzione. Infatti abbiamo detto A come accoglienza, R come ricerca. Ci hanno detto che A, R è il simbolo della realtà aumentata, magari aumenta anche la nostra. Magari aumenta anche la vostra, certo. Quindi c'è bisogno anche di finanziamenti, quindi così come è stato quello dell'audace, chiunque può contribuire, aziende privati, alla crescita vostra e che corrisponde poi alla salute e a una migliore possibilità di vivere la vita nel modo più corretto e più felice possibile anche di famiglie che hanno ragazzi purtroppo con problemi oncologici. Assolutamente sì, assolutamente sì, questo è il nostro obiettivo, rendere migliore la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie. E allora in bocca al lupo perché è un principio. Grazie, grazie anche a voi e grazie per il sostegno senza il quale non andremo avanti. Grazie a lei. Grazie. Grazie.